Abbiamo costruito una cosa veramente bella, siamo orgogliosi di questo, sono orgoglioso di avere una squadra così, una società così, un allenatore così, è stato veramente tutto perfetto. Sì, non possiamo prescindere dal gruppo perché è uno sport di squadra e a maggior ragione qui a Crotone abbiamo fatto le nostre fortune su questo e quindi penso che sia veramente il valore aggiunto quello che ci ha fatto raggiungere l'obiettivo. Dovevamo essere protagonisti, lo siamo stati e non è facile, soprattutto in questa Serie B dove ci sono squadre che investono, spendono come ha fatto la nostra, ma spendere e investire non vuol dire per forza riuscire. Avevamo delle pressioni, le abbiamo sostenute alla grande e di questo sono veramente orgoglioso perché ti ripeto non è facile, il merito va veramente ai ragazzi e anche a quelli che hanno giocato di meno soprattutto perché non è facile e un plauso va alla società, all'allenatore e a tutti quanti. La dedica è ovvia perché Sergio è con noi tutti i giorni, è una parte di noi e resterà sempre così. Grazie a tutti.